Un lavoro lungo, intanto un lavoro d'archivio lungo nel nostro archivio che è ricchissimo e che abbiamo trovato tante cose lì. Però la cosa più importante era andare a trovare i documenti più efficaci, quelli che più ci potevano dimostrare questa realtà a Recanati. E quindi abbiamo fatto tanti viaggi a Recanati, siamo stati accolti molto bene dal conte Vanni Leopardi, che è l'ultimo praticamente, anche se ha una figlia, insomma sono le ultime generazioni, e ci ha accolto molto molto bene. E' abbastanza raro che ci abbia permesso di consultare anche le carte dell'archivio di casa Leopardi e ci ha dato anche il permesso, anzi ci ha dato il permesso, lui ci ha fornito alcune foto della famiglia Leopardi, altre foto che non possono normalmente essere pubblicate. E noi abbiamo accettato ovviamente con molta contentezza, naturalmente vi comparrà il logo loro perché è di casa Leopardi. E quindi è stata una ricerca lunga, senz'altro però molto gratificante e anche piena di sorprese perché non immaginavamo che poi questo legame nel corso del tempo sia incentrato soprattutto nella figura di Monaldo. soprattutto una figura di Monaldo che ha avuto dei rapporti con Gubbio per ragioni di interesse che poi sono descritti nel libro.